Cana Pisa 2012, street parade antiproibizionista contro la legge fine giovanardi sulle droghe e la criminalizzazione di migliaia di persone Sabato 26 maggio, ore 17, piazza Sant'Antonio, Pisa, scendi in strada per dire basta proibizionismo, basta repressione Per il diritto a strategie concrete di riduzione del danno e ad una cultura deluso critico e consapevole delle sostanze Sabato 26 maggio, Cana Pisa, street parade, il proibizionismo è fallito, piantiamola Info su osservatoriantipro.org